Per quanto riguarda la prevenzione e la cura del diabete, che tipo di novità ci sono che riguardano il poliambulatorio Valturio? Sono novità molto interessanti, nel senso che il diabete è una malattia cronica che coinvolge nella sua espansione diversi organi, e parlo in particolare del cuore, degli occhi, dei reni, degli arti inferiori. E allora stiamo cercando di dare una valutazione multifunzionale polispecialistica a chi è affetto da questa malattia. Purtroppo il diabetico oggi è un po' abbandonato, nel senso che il diabete, come si sa, è una malattia che è silenziosa, che si esprime sempre tardi, e quando si esprime non si esprime con dei sintomi ma con delle complicanze serie. E allora diciamo che è un killer silenzioso che colpisce sempre tardi, però quando colpisce, colpisce con una grande precisione. Vedere l'andamento della malattia, rendersi conto che la malattia è l'ultimo atto e non il primo atto di un fenomeno, è la cosa che oggi proponiamo. Noi vorremmo dare al paziente diabetico un'assistenza che sia del singolo, specialista ed endocrinologo, ma anche di una serie di specialisti, l'oculista, il cardiologo, il nefrologo, il vascolare, che possono portarlo appunto a non perdersi nel mare grande della malattia, ma a trovare una strada giusta che soprattutto gli eviti di avere delle complicazioni. Questo direi che è quello che noi offriamo e che cerchiamo di proporre alla città. Naturalmente questo in collaborazione anche con il sistema sanitario nazionale e certamente non in antagonismo.